Scegli oggi il tuo domani. Ciao sono Gian Maria Cetti e mi sono da poco laureato in scienze dell'ambiente e della natura qui all'Università degli Studi dell'Insubria. Ho fatto questa scelta in questo teneo inizialmente perché cercavo un corso che potesse essere interdisciplinare attraverso l'area geologica, biologica e chimica. Mi trovo molto soddisfatto a postere di questa scelta, data la grande professionalità dimostrata dai professori e la grande disponibilità ma soprattutto perché cercavo un corso che potesse insegnarmi qualcosa di pragmatico, di pratico oltre che qualcosa di teorico. Ho avuto inoltre la possibilità di effettuare un tirocinio curriculare seguito da un ricercatore esperto e da un docente di riferimento e questo ha potuto mettere le basi per quello che è stato il mio progetto di tesi. Penso che questo possa essere molto importante per il mondo del lavoro ma siccome mi sono trovato bene ho deciso di riscrivermi al primo anno di un corso magistrale di scienze ambientali curriculum e rischio chimico per approfondire le mie conoscenze.